Ormai nel catalogo Sony sono tantissimi gli obiettivi presenti, sia con obiettivi originali, sia universali, i vari Sigma, i vari Tamron, Samyang, ormai veramente le alternative sono tantissime. Sony qualche tempo fa ha presentato un interessantissimo Sony 90 2.8 macro, eccolo qua, un obiettivo come vedete compatto, costruito molto bene, poi dopo nell'articolo vi spiegherò un po in dettaglio quali sono le sue caratteristiche, ha un prezzo tutto sommato concorrenziale, considerando appunto tutte le sue caratteristiche sia ottiche sia meccaniche. È un obiettivo che permette un ingrandimento di 1 a 1, quasi 1 a 1, 0,92 per esser precisi, quindi sia sulle full frame sia sulle APS-C, perché la baionetta come sapete è la medesima Sony, permette notevolissimi ingrandimenti e ha una qualità veramente eccellente. Inoltre è dotato di un autofocus velocissimo, di una messa a fuoco manuale molto comoda, ve lo descriverò successivamente, comunque con un velocissimo switch sul livello di messa a fuoco si riesce a passare dalla messa a fuoco automatica a messa a fuoco manuale, perché nella macro si usa tantissimo la messa a fuoco manuale, ha diaframmi molto chiusi, quindi stativo, illuminazione controllata. Noi non siamo specialisti della macro, però abbiamo fatto qualche scatto che vi daranno più o meno un'idea della resa di questo obiettivo. Prima di andare avanti nella descrizione, di farvi vedere le prove, vi ricordo di fare la sottoscrizione al nostro canale, qui sotto nell'articolo troverete il pulsante iscriviti, è una cosa importante per noi, a voi costa poco, oltretutto è gratuita, e ricordatevi anche di spuntare la campanellina così ogni volta che uscirà un nuovo articolo voi sarete avvisati appunto di questo nuovo articolo. Comunque prima di andare a vedere in dettaglio un po' la resa di questo obiettivo, di questo sony 90 a 2.8 macro, vi do una descrizione di quelli che saranno i vari test, quindi ovviamente la nitidezza, i vari diaframmi, il flare, le aberrazioni. Abbiamo provato anche l'autofocus utilizzando una sony a9, il primo modello comunque va benissimo, nel caso voi utilizzate l'obiettivo anche per i ritratti, per dire, perché comunque la focale è molto adatta a fare ritrattistica e per questo abbiamo provato anche lo sfocato, come si vuol dire, si suol dire ultimamente il buke, è una parola che va molto di moda adesso. Adesso allora andiamo a vedere come si è comportato sul campo, prova reale sul campo, questo sony 90 a 2.8 macro, dopodichè vi dirò quelli che sono le mie impressioni, i miei consigli su questo ottimo interessante obiettivo della sony. Il sony 90 a 2.8 macro si presenta costruito molto bene, le finiture sono ottime, a fine conto è un sony della serie G, è composta da 15 elementi in 11 gruppi, 9 labene di diaframma, 600 g di peso e 131 mm di lunghezza, quindi anche un'ottica direi compatta. Questo è il ponte di comando, lo switch per parzializzare la messa a fuoco, lo switch per abilitare o meno la stabilizzazione e questo è un pulsante, solitamente si usa per il blocco della messa a fuoco però è personalizzabile. La ghiera di messa a fuoco è costruita veramente bene perché è uno switch rapidissimo per la messa a fuoco automatica, come in questo caso poi potete correggere anche la messa a fuoco automatica e la messa a fuoco manuale in cui si abilita anche la scala delle distanze da 0,28 a infinito. Ottimo quindi anche questo aspetto. Il filtro del diametro filtro anteriore è di 62 mm. Vi parlavo prima della compattezza dell'ottica, qui l'abbiamo confrontata con una bottiglietta di acqua minerale da 500 mm, vedete quanto l'ottica è compatta. Cominciamo a vedere le prestazioni dell'ottica, cominciamo con la distorsione, distorsione come vedete praticamente nulla, come deve essere un'ottica macro. Alle livello di vignettatura è un po' presente a tutta apertura f2.8, leggermente i bordi, guardate, ma già chiudendo di uno stop a f4 praticamente sparisce, quindi da 5.6 e ancor di più, come ho fatto uno scatto successivo a f11, la vignettatura non è più assolutamente un problema. Le aberrazioni sono stato molto in difficoltà a trovarle perché essendo un'ottica macro è super corretta anche a livello di aberrazioni. Qui come vedete sto ingrandendo al massimo particolare di una foto in cui se ci sono aberrazioni sicuramente vengono a comparire e ingrandendo in maniera esagerata alla fine sono riuscito a trovarne appena appena in una posizione di altissimo contrasto. Questa c'è appena un po' di aberrazione ma cosa praticamente inesistente. A livello di flare il sony 90 macro direi che si comporta bene, qui il sole era sparato in macchina, è ovvio che il contrasto si abbassa, si vedono un po' di immagini fantasma, qui lavorava tutta apertura, però considerando la situazione e diciamo il cercare proprio di mettere in difficoltà l'obiettivo il comportamento è buono sicuramente dimostra un buon trattamento a livello di strati antiriflessi sulle lenti. Andiamo a vedere adesso quello che è la nitidezza. Cominciamo dal centro a tutta apertura, ingrandisco come vedete ingrandisco parecchio e già tutta apertura al centro il comportamento è ottimo come si conviene in ottica macro. Qui ha f11 che è uno dei diaframmi utilizzati abbastanza frequentemente per i macro fotografi, la nitidezza è buona però vi ricordo qui siamo a medie distanze non è che si guadagni tanto rispetto a tutta apertura. Andiamo a vedere i bordi dove invece sicuramente rispetto a 2.8 sto ingrandendo comunque anche a 2.8 vedete ai bordi la nitidezza è più che sufficiente, chiaramente a f11 si avrà un guadagno dato la la profondità di campo che aumenta e anche l'ottica che dovrebbe funzionare meglio questi diaframmi vedete che la nitidezza ai bordi guadagna. Per vedere bene le differenze ho confrontato tre scatti al centro 2.8 5.6 e 11 vedete che il centro la resa è eccellente e costante a tutti i diaframmi. E' chiaro che i bordi a parte 2.8 dove si vede un po' di vignettatura non con una corretto niente 5.6 e 11 ai bordi si guadagna. Vediamo come funziona nella sua vera vocazione, la macro, la macro qui ho fotografato una moneta come potete vedere si ha tutta apertura qui andiamo con ingrandimento, cominciamo a ingrandire, a zoomare al centro dell'inquadratura, la nitidezza è veramente eccellente, è un comportamento degno di un'ottima ottica macro. A f11 tenendo conto di quello che abbiamo notato prima in cui si ha una leggera perdita alle medie distanze qui invece la definizione è sempre altissima direi equivalente se non meglio a 2.8. E' chiaro adesso andando a vedere i bordi guardando a tutta apertura si conferma un'ottima prestazione dell'ottica ai bordi chiudendo a f11 avendo una profondità di campo più abbondante e a piccolissime distanze si nota l'ottimizzazione di quest'ottica proprio guardate a f11 la nitidezza. Per vedere confermare il tutto confrontiamo due scatti al centro a f2.8 e f11 risolvenza eccellente a f11 abbiamo un po più di croccantezza ai bordi già a f2.8 il comportamento direi che è ottimo a f11 cominciamo a raggiungere l'eccellenza. Il buke, il buke perché è un obiettivo anche adatto al ritratto direi che è ottimo le nove le medie di diaframma fanno il loro lavoro vedete è cremoso e questo sfocato si può utilizzare anche nella macro fotografia diciamo artistica lavorando a 2.8 giocando con le luci giocando coi colori si riescono a fare gli scatti estremamente interessanti. Vi voglio far vedere quanto cambia da 2.8 a 5.6 quanto cambia diciamo la poesia di una foto vedete era 2.8 qui 5.6 quanto cambia nonostante la distanza ravvicinata l'impatto che può avere la foto. Io ho fatto una foto a 5.6 con lo stabilizzatore a un'ape e direi che la resa tenendo conto della mia non eccelsabilità è ottima. Parlando di stabilizzatore vedete qui ho innestato lo stabilizzatore c'era un po' di vento la mia mano non è fermissima e la confermo e quando vediamo che è staccato lo stabilizzatore è praticamente l'immagine inutilizzabile quindi anche lo stabilizzatore dell'ottica copiata alla 9 si comporte cresamente. Anche nella prova autofocus accoppiato alla 9 le prestazioni del 90 macro sono eccellenti. Come avete visto il comportamento del sony 92 8 macro è veramente ottimo direi eccellente una grandissima nitidezza basta chiudere di 2-3 stop e si avrà nitidezza su tutto il campo. E' un obiettivo anche comunque adatto alla ritrattistica tutta apertura su una full frame riesce comunque a dare un bello stacco dei piani e ha uno sfocato direi cremoso quindi un obiettivo a 360 gradi. Certo che è un'ottica che noi consigliamo per chi è diciamo avvezzo a scattare macro quindi uno strumento veramente uno strumento delle mani di un fotografo che ha scelto come corredo sony per far delle macro veramente a livelli eccellenti dato che come ho detto precedentemente all'inizio dell'articolo permette un ingrandimento di uno a uno senza aggiuntivi. Su una psc moltiplicando quindi la focale per uno e mezzo abbiamo un 135 che può aiutare in certi casi avere anche una distanza maggiore dai soggetti che non sempre sono molto fermi quindi come sanno i nostri lettori che ci seguono e sono esperti in macro fotografia bisogna scegliere anche gli orari adatti non certamente quelli in cui noi abbiamo scattati. Comunque un'ottica a parte questi discorsi che permetterà di fare delle eccellenti macro fotografie perché la disidenza è veramente eccellente le aberrazioni sono scarsissime quasi invisibili il flare è controllato ma sicuramente il flare non è un problema per chi avvezza la macro fotografia perché sa controllare molto bene obbligatoriamente direi quelle che sono le illuminazioni del set fotografico. Un'ottica quindi che noi consigliamo essendo anche i veri obiettivi macro per Sony veramente molto scarsi. Questo comunque è un direi un fiore all'occhiello del prodotto della linea Sony come tanti altri. Comunque questo per macro fotografia è un obiettivo estremamente consigliato da noi di ProMirrorless. Se vi è piaciuto questo articolo mettete un like e ricordatevi di fare la sottoscrizione qui sotto vedete il pulsante di sottoscrizione ricordatevi di spuntare la campanellina. Vi ricordo ancora i nostri corsi online dallo scatto la stampa fine art e da bianco e nero fine art. Qui sotto troverete anche un link in cui se vi interessa potrete avere il vostro Sony 90 macro se vi interessa con uno sconto mettendo il codice ProMirrorless. Comunque tutto descritto nell'articolo ai piedi di questo video. Detto questo ci vediamo alla prossima recensione.